Teat Technology nasce da un'esperienza anche del passato della mia famiglia perché la mia famiglia produceva macchinari e macchinari per legno dal 1935 in poi azienda che poi è passata un gruppo industriale più grande. Nell'azienda lavoravo io e anche altri miei soci che poi attualmente hanno fondato poi insieme a me questa nuova società. La nostra azienda si trova a Vicopisano in provincia di Pisa nella zona industriale della Barsiliana. È un'azienda piccola perché fondamentalmente noi siamo una fucina di progetti. Poi questa azienda produce anche macchine, facciamo anche consulenze. Abbiamo capito che occorrevano dei prodotti più snelli, economicamente più appetibili e che fossero ben pensati per fare determinate lavorazioni, che non fossero lavorazioni estremamente gravose perché per fare lavorazioni piccole come queste occorrono decenti di lavoro con delle caratteristiche diverse. È una macchina molto importante e potente che non serve assolutamente. Sono macchine piccole e compatte. Tutte le nostre macchine di questa fascia sono dotate di cambio utensile automatico. Questo permette di fare molti interventi sul materiale e quindi di fare anche particolari di alta precisione. Sono macchine che sono dedicate anche alla grande industria quando devono fare lavorazioni semplici, ma fondamentalmente alle piccole e medie industrie che producono oggettistica, che tagliano plastica. Abbiamo acquistato prodotti HSD innanzitutto perché li conosciamo da una vita, proprio per le esperienze passate che abbiamo fatto e specialmente in passato quando una vecchia azienda Vulleri si occupava di produzione di centri di lavoro a controllo numerico per il legno, fondamentalmente ne ha comprati a centinaia i motori dell'HSD. Quindi un prodotto affidabile, un prodotto che ci dà garanzie, un prodotto che ci dà assistenza sia per noi che per i clienti che acquistano le macchine. Per quanto riguarda noi abbiamo individuato anche dei prodotti che oggi HSD produce che sono più indicati anche per un tipo di macchina come produciamo noi. Quindi motori performanti, piccoli, con ingombri ridotti, con peso ridotto, ma con caratteristiche molto elevate. Per questa tipologia di macchina abbiamo scelto le S320 e HSD perché è un motore tecnologicamente avanzato, di potenza adeguata, permette di lavorare diversi materiali, quali alluminio, legno, materiali plastici. Quindi diciamo ci permette di coprire anche diversi settori produttivi. Quindi è un concentrato di tecnologia in un motore piccolo, compatto, affidabile e performante.